eh questa è sta rivelazione eh questo sarebbe Tottugoddu Tottugoddu eh non se l'è cavata male Tottugoddu eh diciamo di no dai allora vai così si guarda lui non l'ho tosato quindi c'è ancora i capelli invernali a mio piede più là mannaggia te ma lontano se sta vicino non si vede niente se vuoi vado di là nella strada no nella strada no come ho fatto a vista io mi stai un po' più lontano hai visto che gli vogliamo dire questo l'ha fatto vedere gli ambienti nel cavallo era eh vero è un cavallino preciso l'ho aspettato c'ha le caratteristiche e la testa giusta per fare il cavallo da piazza ha fatto il mio primo anno bellissimo lui senti gli ho fatto fare è stato più meno forte poi dopo non ho arrivato a voler lui la primissima volta che è entrato in piazza ha fatto le prove la notte a quattro anni a luglio ad agosto non mi ricordo comunque ho fatto solo le prove la notte nell'anno dei quattro anni non ha mai corso se non le prove la notte giusto per avvicinarsi e fare un po' di esperienza e poi a cinque anni ha debuttato a Monteroni ed è arrivato terzo poi ha vinto a Monticiano ha vinto a Monticiano due corse sì una a cinque anni e una a sei anni mi sembra no no viste due corse a cinque anni due corse sì due corse il primo anno ha vinto è vero che il primo anno andò forte forte poi il secondo anno è stato un po' più era un po' c'era testato e poi l'ho migliorato ancora sì lo so perché ora cioè ora li vedo li seguo sempre si che capito poi se quelli migliori dove di nuovo dai un quanti so qualche uno mi può anche passare dai però ecco mi ricordo visto dai tu godi allora visto che fa tanto questo fa solamente il protocollo giustamente no? questo fa il protocollo ora vediamo sul programma diciamo dei cavalli ancora non è che mi sto a fare tante fisime diciamo vediamo un attimino quello che è reputo opportuno sul momento fargli fare bene o male lui alla fine l'anno scorso ha fatto il palio di Bientina e poi ha corso il palio il palio d'agosto sono dell'idea che ci sono dei cavalli che hanno bisogno magari di fare qualche corsettino in meno qualcuno ha bisogno di correre di più rispetto agli altri in base a quello che serve per la preparazione per quello che poi voglio fargli fare deciderò bellissimo ci sta che lo porti anche a san vincenzo al palio degli amazzoni me l'hanno chiesto ah è bravo c'è una curva sola lui a curvare problemi non dovrebbe averne maneggevole vediamo magari una giratina al mare la fa volentieri prendi un po' di olio di olio eh 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 va bene sotto il cordo vai billoni ver la ponte dupomma ponte